Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo il nostro telegiornale, quella pagina dedicata ai festeggiamenti in onore del santo patrono di Bari, San Nicola, perché si entra ormai nel vivo. Il 7, il tradizionale appuntamento con il corteo storico che Telebari seguirà in diretta con immagini esclusive. Sentiamo. Le luminarie colorate sono già posizionate, pronte e luminari a festa. La città a Bari si prepara a festeggiare il santo patrono con la classica rievocazione storica dell'impresa dei 62 marinai che trafugarono le ossa di San Nicola da Mira. E la speranza è il tema scelto per l'edizione 2023 curata dal direttore artistico Nicola Valenzano. Ispirato da un dipinto di Gustav Klimt, una donna che indossa un grandissimo mantello diventa metafora di vita. Del resto tutta la storia di San Nicola è costellata dai venti che simboleggiano la speranza. A interpretare il tema ci sarà anche il colore. Il quadro del santo in corteo sarà ricoperto di edere e foglie verdi con bambini festanti ad accompagnarlo. Sette quadri scenici che racconteranno la vita del santo che sfileranno nel lungo serpentone per le vie della città. Circa 600 i figuranti che comporranno il corteo. Non mancheranno elementi scenici. In tre punti del percorso verranno posizionate tre torri medievali che si trasformeranno in palcoscenici dove gli attori drammatizzeranno alcuni momenti della vita del santo e della traslazione in scena. Alcuni dei nomi più amati del pubblico barese. Tra questi Tiziana Schiavarelli, Dante Marmone e Nicola Salatino. Le coreografie saranno curate da Alessandra Lombardo. Quest'anno ci saranno anche due momenti di grande impatto scenografico. In Piazza Libertà e nel piazzale della Basilica torna la danza aerea dell'associazione Resta Extensa, coordinata dalla regista e scenografa Elisa Barucchieri. Le performance contempleranno la vita e i misteri senza tempo di San Nicola. Luci, scene e costumi riprodurranno l'atmosfera dell'epoca. Candele e fiaccole ricreeranno la tipica luce medievale, mentre i balconi già da domani saranno addobbati con drappi, tessuti e fiori. Tele Bari, domenica 7, a partire dalle 20, in diretta racconterà con le proprie telecamere il suggestivo corteo storico con immagini in esclusiva. Appuntamento su canale 17, sul nostro sito telebari.it e sulle nostre pagine social. Restiamo in tema con bambini, anziani e disabili in corteo nella Basilica di San Nicola nella giornata dedicata al tema della pace. La sfilata preceduta dal quadro del Santo e da numerose associazioni. Cristina Ferrigni. La vera disabilità è quella di non avere cuore e chi ha il cuore può senz'altro operare nel bene, realizzare l'amore e l'amore naturalmente significa dialogo, fratellanza, pace. Sono disabili i bambini ed anziani i protagonisti del corteo storico del 5 maggio in preparazione della Sagra per la festa del Santo Patrono. A due giorni dalla tradizionale rievocazione storica i cittadini più fragili coordinati dal movimento italiano disabili hanno sfilato in corteo con il quadro di San Nicola animato delle associazioni figuranti di San Nicola Nicolaus Barium, marinai della traslazione Milizia Santi Nicolai. A margine del corteo la benedizione del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, la visita nella cripta. Alla giornata dedicata al tema della pace hanno partecipato anche il sindaco Antonio De Caro e i rappresentanti di numerose associazioni. È una tradizione, lo facciamo ogni anno, avviamo con loro le feste di San Nicola, che sono delle feste che tengono vivi quelli che sono poi gli ideali e valori di San Nicola, l'accoglienza, la solidarietà, la pace. È la gioia, la gioia da parte dei bambini che con molta umiltà stanno insieme agli anziani, gli anziani, i disabili, che sono anche loro dei bambini. Anche noi partecipiamo e collaboriamo con il movimento Disabili, che tra l'altro loro collaborano anche con l'impegno 95 e con tutte le iniziative rivolte sia alla disabilità, alla sanità, immigrazione ed altro. A conclusione della mattinata la distribuzione di dolci, braccialetti e palloncini. Si intitola a volte Nicola Iani la mostra iconografica interamente dedicata a San Nicola organizzata e promossa dalla Fondazione Nicolaus in collaborazione con l'assessorato alle culture e il Museo Civico del Comune di Bali. È stato presentato questa mattina a Palazzo di Città. Vediamo. Oltre 30 opere tra pitture e sculture realizzate da artisti locali negli ultimi 50 anni. Si intitola a volte Nicola Iani l'esposizione che li percorre la storia di San Nicola attraverso l'arte. Dal 5 maggio al 4 giugno il Museo Civico di Bari ospiterà i lavori di affermati pittori e scultori del territorio che, con metodi pittorici e stiei differenti, hanno rappresentato il Santo Patrono. La mostra organizzata e promossa dalla Fondazione Nicolaus in collaborazione con l'assessorato alle culture e il Museo Civico del Comune di Bari si pone come obiettivo quello di offrire attraverso l'arte una valorizzazione della dimensione umana e spirituale di San Nicola diventando un simbolo di unione e di fratellanza. Noi ospitiamo questa mostra di 11 artisti, maestri del colore, maestre e maestri del colore, che hanno interpretato durante il loro percorso artistico in qualche caso di un'intera vita. Cominciata l'anno scorso grazie all'intuizione del Presidente della Commissione Cultura Giussi Cascella, quest'anno abbraccia tanti artisti e artiste baresi che hanno raccontato il loro percorso professionale e artistico anche attraverso San Nicola. Allora ne cito solo alcuni, abbiamo appena scomparso il maestro Piccini che ha donato all'amministrazione tante opere e con lui per esempio scopriremo un'opera inedita che lui ha dipinto quando era adolescente. Ma poi ancora Adolfo Grassi, Michele Damiani, Michele Volpicella, Luigi Abressan, sono tanti gli artisti che abbiamo accolto per San Nicola oggi 5 maggio alle ore 18 al Museo Civico. E torna come sempre nel periodo di San Nicola il tradizionale appuntamento con il Villaggio del Gusto che si terrà dal 5 al 9 maggio. Siamo già alla settima edizione, le novità in questo servizio. 21 stand 5 berrifici con oltre i 51 stili di birra spaghetti all'assassina. Un percorso gastronomico ricco di novità, quello del Villaggio del Gusto che dal 5 al 9 maggio torna sul Largo Giannella, Bari. Protagonisti dell'evento promosso dall'associazione De Gusti Bus Vite, i berrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali della cucina di strada, chiamati ad arricchire la festa della gastronomia Made in Sud, ideata da Mimmo Loiacono e giunta alla settima edizione con un ricco programma di intrattenimento. Presenteremo per la prima volta al pubblico la pasta all'assassina, mentre nelle birre abbiamo la presentazione di un progetto molto particolare realizzato all'interno del carcere di Taranto ed è una birra realizzata con l'acqua di cottura delle cozze di Taranto. La scelta artistica dei contenuti è stata pensata in maniera internazionale, per cui avremo DJ set, live band. A sollecitare i palati più esigenti insieme con gli spaghetti all'assassina, gli arancini siciliani, gli arrosticini abruzzesi, passando dagli hamburger al caciocavallo ai torroni di Gallipoli senza tralasciare i piatti tipici baresi, dalla tiedda alla focaccia altamurana. L'ecosostenibilità al centro del villaggio del gusto, niente vetro, con iniziative promosse dal comune di Bari e di Amiupuglia. L'evento in concomitanza con la Sagra di San Nicola che richiama cittadini e turisti da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo delle novità grazie agli organizzatori, ricordiamo il birificio Bari, abbiamo i spaghetti all'assassina, ormai un cult nazionale grazie anche a Lolita Lobosco, i spaghetti all'assassina li mangiamo un po' tutti, quindi San Nicola che vuole entrare anche nelle fiction italiane, in qualche modo ci facciamo raccontare attraverso il cibo, attraverso la buona birra e anche la buona musica. Sarà un San Nicola l'insegna del bel tempo? Lo scopriamo insieme al colonnello meteorologo Vita Antonio Laricchia. Splendido venerdì con una debole componente di venti da quadrante sistemi centronali da maestrale, i mari sono poco mossi stamattina e quindi la temperatura attorno ai 17 gradi stamattina toccheremo i 22. Per quanto riguarda sabato e domenica, i venti prima calma di vento, poi orientativamente intorno ai quadranti sciroccali, le temperature toccano anche i 24-26 gradi tra sabato e domenica. Quindi il sole è splendente, domenica nessun problema, l'avevamo già anticipato anche per quanto riguarda la serata per il corteo storico di Bari, nessun problema, una bellissima serata di festa da punto di vista, diciamo, del poliardico e tante altre cose messe insieme. Insomma, ci sarà da divertirsi. Lui è martedì 8 e 9, 8 c'è lo sbarco a San Nicola, tutti sul lungomare di Bari ovviamente, per una bella giornata di sole. Le nuvole cominceranno ad interessarci, i venti a quarantici locali ad intensificarsi, qualche acquazzone previsto nel pomeriggio del giorno 8 e del giorno 9, quando comincerà il peggioramento definitivo per l'arrivo ancora di perturbazioni atlantiche di questa primavera, che ci porterà praticamente il suo lato negativo, ancora purtroppo, ancora una volta. Notizie dal nostro sito www.telebari.it, ci colleghiamo con la postazione social dove c'è per noi Tiziano Tridente. Tiziano, buon pomeriggio. Allora, andiamo avanti, ci collegheremo tra poco con Tiziano Tridente e parliamo dei disagi alla viabilità che continuano a Sant'Anna per via dei lavori di realizzazione della Fogna Bianca. Bisognerà aspettare la prima settimana di giugno per un ritorno alla normalità. Sentiamo. Code e rallentamenti con non pochi disagi per gli automobilisti, soprattutto nei giorni festivi, quando la statale 16 Sintasa e San Giorgio resta l'unica alternativa valida per muoversi verso sud. Nel mirino dei Baresi il cantiere è per la realizzazione della Fogna Bianca di Sant'Anna che nel suo tratto terminale verso il mare è operativo a San Giorgio. La risposta alle lamentele e ai motivi dei ritardi arriva da Claudio Laricchia, direttore della ripartizione strade. Noi abbiamo quindi ripreso i lavori da dove erano stati lasciati dalle imprese private utilizzando, e non possiamo fare diversamente, il progetto redatto tra questi stessi soggetti privati. Il problema è nato quando siamo arrivati molto vicino a mare e il progetto, così come è pensato dai privati, di fatto è risultato irrealizzabile perché prevedeva la realizzazione in quel punto, non della normale posa come spesso si fa di tubazioni della fognatura, ma la realizzazione in opera di un cunicolo, che non è stato possibile realizzare. Noi siamo stati costretti a modificare il progetto e a prevedere l'utilizzo di nuove tubazioni, sono delle tubazioni molto particolari. L'ultima comunicazione che ci è pervenuta fa arrivare i tubi in cantiere il 12 maggio, quindi non appena speriamo che questo dato sia rispettato, noi procederemo immediatamente alla posa delle tubazioni e alla chiusura di quello scavo. E allora siamo pronti per collegarci con la nostra postazione social e gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it con Tiziano Tridenti. Tiziano, buon pomeriggio. Sì, eccoci Alessandra in primo piano sul nostro sito La Cronaca, con i dati davvero impressionanti diffusi dalla Polizia Postale nella giornata nazionale contro la pedofilia e podopornografia che si celebra oggi. Nel corso del 2022 sono state ben 71 le persone denunciate in Puglia dal centro operativo regionale e dalle sezioni provinciali della Polizia Postale per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori. Nei primi mesi del 2023 le denunce sono già 35, due gli arresti contro i sei in totale dello scorso anno. Cambiamo decisamente argomento, è tutto pronto al parco 2 giugno per il primo maggio barese, festa rinviata lunedì per maltempo e in programma domani sempre al parco a partire dalle ore 10. L'esibizione di Samo e dei Subsonica è stata cancellata, in serata ci sarà invece Pino D'Angio, con lui sul palco tra gli altri anche Renato Ciardo, tantissime le attività in programma per grandi e piccini. Chiudiamo con informazioni di servizio per i tanti baresi alle prese con il rinnovo e il rilascio del primo passaporto. Mercoledì 10 maggio a partire dalle ore 10.30 sarà possibile accedere all'agenda online dell'ufficio passaporti della questura di Bari e prendere appuntamento per le aperture straordinarie dell'ufficio in programma sabato 13 e sabato 20 maggio sul nostro sito tutte le info utili. A te! Ringraziamo Tiziano Tridente, noi andiamo avanti perché sarà un fine settimana all'insegna della musica. Allora, vediamo quali saranno gli appuntamenti imperdibili in questa rubrica di Manichela Pastore. Da New York a Spazio Miurasta, sera alle 19, il fuoriclasse della console DJ Spin sarà l'ospite speciale del prossimo Afrocosmico, il progetto sulla dance e la club culture ideato dal produttore e musicista Nicola Conte, insieme a Claude Denko e Nico Panzini. Intanto, alle Feltrinelli di Via Melo, il cantautore italiano Vinicio Capossela presenterà 13 canzoni urgenti, il suo nuovo album in uscita il 21 aprile, con brani che nascono dalla necessità di confrontarsi con le problematiche attuali. Ancora tanta musica anche domani alle 21 al Teatro Team, con Fabrizio Moro che riproporrà i brani più rappresentativi della sua carriera, ma con un arrangiamento completamente rivisitato, insieme a quelli contenuti all'interno del suo nuovo progetto discografico. Siamo alle notizie dalle province pugliesi, partiamo subito da Foggia, dove stamane è stato presentato un progetto per riqualificare il centro storico cittadino a partire da uno dei simboli più rappresentativi, il complesso conventuale di Santa Chiara. I dettagli da Nicola Saracino. Un progetto per riqualificare il centro storico di Foggia partendo da uno dei simboli culturali più rappresentativi, ovvero il complesso conventuale di Santa Chiara. Punta a questo il progetto Arpi in Arts, vincitore del bando regionale Radici e Ali, finanziato in modo consistente dalla regione Puglia con il contributo privato a fondo perduto da parte di alcuni soci della fondazione Apulia Felix. Ci saranno tante attività non solo nel campo musicale ma questo luogo diventerà anche in qualche modo il museo di se stesso perché attraverso la multimedialità potrà raccontare la storia non solo della chiesa di Santa Chiara, del convento di Santa Chiara nel cuore della città ma della città di Foggia, della sua fondazione, adesso tutte le varie fasi fino ad oggi. Quindi sarà un luogo aperto, a disposizione di tutti e l'idea è quella appunto di lavorare insieme agli altri. Il progetto interverrà su una parte rilevante dell'antico complesso conventuale e lo renderà furibile sia per l'ampliamento dell'attività culturale portata avanti dalla fondazione nei settori dello spettacolo d'avvivo e della convegnistica, sia per arricchirlo con iniziative nel segno del rapporto con il territorio e dell'inclusione sociale in un quartiere che presenta ricchezze culturali ma anche tante criticità. Andiamo a Monopoli dove Rotary ha promosso un incontro per informare e sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del tumore alla cervice uterina. Francesco Russo. Lo screening per la prevenzione del carcinoma al colo dell'utero è tra i tre esami con mammella il retto ad essere previsti dal piano sanitario nazionale completamente gratuiti ma è ancora troppo ridotta. La percentuale di donne che si sottopongono al test raccomandato dai 25 ai 64 anni è da eseguire in tutti i consultori della ASL di Bari, di cui la necessità per il Rotary di Monopoli di accendere i riflettori su un'opportunità sociale di salute pubblica. Quindi abbiamo deciso di sensibilizzare e informare il territorio, quindi non soltanto Monopoli ma tutta la Puglia. Consideri che vengono raggiunte da una missiva, da una lettera di invito, invito gratuito, però frequentemente anche a livelli di classi elevati e a livello culturale si tende a cestinare mentre invece bisogna comprendere che è molto importante rendersi conto di quello che succede, aprire la lettera e assolutamente accettare questa forma di invito. Da settembre 2022 sul territorio regionale si sta procedendo al test HPV che ricerca l'infezione da virus con prelievi cellulari, strategico all'utilizzo del vaccino che rappresenta una frontiera anche per la prevenzione di patologie maschili. Con l'HPV test primario noi possiamo screenare le patologie della cervice in fase molto precoce, quindi possiamo anticipare la diagnosi. La ricerca dell'HPV è fondamentale non solo per le donne, ma è fondamentale anche per i maschi. Fra qualche anno, se il vaccino non prenderà piede, noi ci troveremo di fronte alle patologie più maschili che femminili. Questo perché nelle donne riusciamo a fare prevenzione, nel maschio non ancora. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando l'anticiclone interesserà tutta Italia, anche se inizierà a essere disturbato da infiltrazioni di aria umida da ovest dall'oceano. Andiamo a vedere quindi la situazione più nel dettaglio. Giornata di cieli serenio poco molosi aumenterà la variabilità però sui rilievi alpini del nord. Nel dettaglio possiamo notare appunto con lo zoom precipitazioni, una giornata asciutta senza precipitazioni, ma durante il pomeriggio un po' di attività combattiva sull'Apenino settentrionale e specie poi Alpi e Prealpi. In sintesi la mappa dell'Italia, una giornata anticiclonica di bel tempo, qualche fenomeno verso sera sulle Alpi e su Ovest Piemonte, altrove sole e temperature in aumento ulteriore, addirittura al nord-ovest punte di 27-28 gradi, giornata simil estiva. Tutti i dettagli e gli approfondimenti scaricando l'app di Trebimè.